Continua l'allerta arancione per il weekend con rischio per la salute, in particolare per i sottogruppi di popolazione più suscettibili. Per affrontare al meglio la festiva, il Ministero della Salute ha invitato i cittadini a seguire alcune indicazioni utili. Consultare ogni giorno il bollettino nella propria città, evitando l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, tra le 11 e le 18. Evitare le zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e le aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per i bambini molto piccoli, gli anziani, le persone con asme e altre malattie respiratorie. Occhio all'utilizzo del condizionatore per non rischiare eccessivi sbalzi termici. Per avvertire meno lafe è consigliabile indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali, proteggere la testa con cappelli e utilizzare gli occhiali da sole. Particolare attenzione alla pelle è da proteggere il più possibile con creme solari. Dal punto di vista alimentare è ricordarsi di bere liquidi, evitando le bibite troppo freddo o alcoliche e moderando l'assunzione di tè, caffè, bevande gassate e troppo zuccherate. Moderazione anche col cibo, meglio la pasta e il pesce alla carne e soprattutto evitare cibi elaborati o troppo piccanti, preferendo verdura e frutta fresca. Perché assume farmaci è ricordarsi di conservarli lontano da fonti di calore e di riporre in frigo quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30 gradi. Tempo d'estate, tempo di vacanza, ma non mettersi in viaggio nelle ore più calde in caso di auto non climatizzata. In vista del solito traffico vacanziero è bene portare con sé scorte d'acqua. Particolare attenzione per le persone non autosufficienti, bambini e anziani da non lasciare mai in macchina al sole. Il Ministero invita inoltre ad offrire assistenza ad anziani soli ed ammalati, segnalando ai servizi sociosanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento e contattare un medico in presenza di sintomi di malessere.